Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo al codice tra parentesi 0 per 1 quindi in questo caso se stai avendo problemi di crash proprio su questo errore ho fatto anche un'altra guida che viene prima di questa tutti tutti i codici quindi 0 1 2 tutti gli altri codici quindi in questo caso ti consiglio di guardare pure l'altra guida per vedere tutto il procedimento questa qua invece è la seconda parte ovviamente in descrizione ti ho lasciato degli script da aggiungere direttamente sul power shield poi andremo a fare un ripristino direttamente sulla xbox game pass per vedere se riusciamo a risolvere questo errore quindi in questo caso andiamo un attimo in descrizione ti ho lasciato così questi script ovviamente iniziamo dalla script 1 poi facciamo script 2 e poi copiamo questi altri comandi ora iniziamo con il primo script facciamo copia andiamo direttamente sul nostro power shield windows powersheel funziona solo su windows powersheel esegui come amministratore facciamo ctrl v e facciamo invio farà così un ripristino sull'applicazione xbox una volta fatto il primo script andiamo a inserire il secondo otteniamo l'app dei servizi dell' xbox facciamo invio ed eccoli qua una volta eseguito se ti esce così questo comando rosso non devi fare altro che aspettare ok una volta fatto puoi chiudere il power shield ora ritorniamo di nuovo sul power shield esegui come amministratore e facciamo sì una volta fatto passiamo al comando questo qua get up x package microsoft game service fai copia e lo inserisci qua e fa invio una volta fatto iniziamo così ad aprire il microsoft store per ottenere il game service di xbox ctrl v e fa invio ed eccolo qua quindi apriamo il microsoft store ci porterà direttamente sul servizio di gioco della xbox lo installi e lo ottieni e basso quindi fai ottieni e installo una volta installato puoi chiudere il servizio di gioco se non dovesse funzionare puoi direttamente andare su xbox quindi qua dice aggiornamento richiesto quindi abbiamo fatto il modo di ottenere un aggiornamento quindi facciamo aggiorna ora ed eccolo qua clicca qua sopra sul tuo nome supporto momento di ripristino farà un ripristino proprio un ripristino totale di tutti i servizi su xbox facendo anche un ripristino sul tuo call of duty se ti dice di fare il login rifai il login e accedi così al tuo account se non dovesse funzionare prova anche ad aggiornare i driver del tuo a scheda video puoi farlo attraverso gestione dispositivi oppure scaricando pannelli di controllo per esempio quelli di nvidia nvidia app o geforce experience schede video aggiorna driver cercherebbe nel computer cita un elenco disponibile clicca questo la tua scheda video fai avanti e installi se non dovesse andare puoi direttamente andare su google chrome e scrivere nvidia app scarichi così la versione beta la installi una volta fatto avvia così l'applicazione nvidia preparazione e installazione in corso sto facendo un nuovo aggiornamento poi direttamente su driver vedi se devi fare qualche aggiornamento su driver studio oppure drive game ready se non dovesse bastare vai direttamente su installazione applicazioni scendi fino a giù fino a trovare xbox opzioni avanzate prova così a interrompere il servizio lo puoi anche interrompere su gestione attività andando su dettagli scendi fino a giù fino a trovare il servizio di xbox ed eccolo qua tasto e sta sopra e fai termine attività lo interrompi e fai un ripristino ripristina così l'applicazione e poi dopo quando avvi xbox devi fare il login con il tuo account microsoft e rientrare così su xbox game pass e vedere se call of duty funziona senza avere problemi di crash ovviamente come ho detto all'inizio se vuoi guardare anche l'altra guida più completa puoi guardarla e vedere altri metodi quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 Grazie a tutti